Cari amici, buongiorno! Siamo di nuovo in onda su Iris TV, una idea per voi, lezioni di stile. Oggi vi volevo comunicare che questo sabato ci prepariamo per organizzare e festeggiare il mio compleanno 23 maggio. Quindi vi aspetto dalle 20 in onda su Iris TV per festeggiare con grandi, grandi artisti, tante sorprese, tante VIP. Non mancate, 23 maggio dalle ore 20 su Iris TV. A presto!